Avvocato Meo, ma è vero che per Piazza Pitagora si possono utilizzare i fondi dell'Antica Croton? Allora, i fondi dell'Antica Croton sono destinati alla valorizzazione culturale. Ecco, può apparire strano, ma la ristrutturazione Piazza Pitagora è un intervento che non implica in realtà alcun tipo di valorizzazione culturale. Quindi sarebbe una destinazione contro natura, un po' come è accaduto con la destinazione di circa 10 milioni di euro per interventi sulla strada cosiddetta per Capocolon. Ecco, quello per esempio è stato un intervento, ahimè, contro natura, nel senso che va contro la natura del progetto, in questo senso contro natura naturalmente. E infatti è un intervento che adesso presenta delle fortissime criticità e che andrà completamente ripensato. La stessa cosa accadrebbe, ove si pensasse di utilizzare somme per la ristrutturazione della piazza, che sta nel nostro cuore, che è bellissima, ma che non è un luogo nel quale si può effettivamente pensare di impiegare somme, risorse finanziarie, di un progetto che non a caso si chiama Antica Croton. Quindi ecco, bisognerebbe prendere consapevolezza di questo prima di andare a suscitare speranze che risulterebbero poi sicuramente infondate e vane e ci esporrebbero anche a possibili rischi in termini di utilizzazione delle risorse. Chiaramente questo è quanto è emerso tra i cittadini e soprattutto credo che i fondi dell'Antica Croton siano fondi in qualche modo bloccati, nel senso che, come lei ha detto, non si possono utilizzare per altre cose. I fondi dell'Antica Croton hanno una destinazione d'uso, che ovviamente è quella indirizzata a quello che io dicevo, cioè alla valorizzazione del nostro immenso patrimonio innanzitutto archeologico. Comunque, per esempio, ne verrà anche impiegata una parte per quanto concerne attività, realizzazioni che verranno poste in essere nel castello, quindi di valorizzazione del castello, del nostro castello. Anzi, sarebbe una buona occasione investire, per esempio, le risorse che non andrebbero spese in infrastrutture per intervenire sul castello e magari acquisirlo finalmente, questo benedetto castello. Comunque, tutte queste valutazioni sono valutazioni che vanno discusse, discusse con la città, discusse con l'associazionismo, in maniera tale da poterle rendere pubbliche e così consentire una riflessione collettiva su quello che deve essere il futuro della nostra città, cosa che sino a questo momento assolutamente non è stato fatto. Ecco, questo è il punto. Ecco, questo è il punto.